Ben trovati lettori e ben trovate lettrici o benvenuti se è la prima volta che venite sul mio canale io mi chiamo Martina e oggi non mi trovo nella solita location nella quale giro tutti i miei video non sono a casa mia ma mi trovo in libreria in un luogo veramente unico e speciale una libreria storica del paese in cui vivo nella quale sono stata invitata dal padrone di casa che fra poco vi presenterò infatti questo video appartiene ad una nuova rubrica che debutta per la prima volta sul canale proprio oggi e vi coinvolge attivamente perché fra poco insieme a Giovanni il libraio matto organizzeremo una specie di gioco che mi coinvolge ma del quale sarete voi i responsabili della mia sorte quindi parliamo di un gioco che ha a che fare con i libri parliamo di cose che sicuramente ci piacciono perché siamo in libreria abbiamo tanti libri intorno insomma benvenuti a speciale in libreria Giovanni io sono troppo contenta di essere qua oggi quindi grazie mille per l'invito grazie mille per questa opportunità siamo in questa cornice bellissima della tua libreria e io ti chiederei subito ci racconti un po' così rapidamente come è nata che cos'è la libreria Motta come no sono anch'io felicissimo di averti qui con noi quindi grazie di aver accettato l'invito la libreria Motta ha origini ben più lontane della mia età è nata nel 1940 quando nel 1940 non esisteva la libreria come non esisteva nessun'altra forma di attività settoriale quindi i miei nonni nel 1940 aprirono un bazar vero e proprio tra questi articoli presenti nel bazar troviamo anche il libro se ti ricordi l'altro giorno ti ho fatto vedere anche qualche pubblicazione infatti poi la particolarità è che in giro avete disseminato nella libreria anche una serie di cimeli quindi i rocchetti oppure i libri di scuola che si potevano una volta esatto le bilance, le lampade, tutti i prodotti che i miei nonni appunto trattavano commerciavano qui all'epoca bazar la libreria Motta così come la conosciamo e la vedete è nata un ventennio fa dopo io mi sono diplomato quindi ho escluso tutti gli altri prodotti e ho lasciato solo il libro solo libri il richiamo alla scuola, la cartoleria i giochi didattici certo che servono sempre però c'è tanto spazio per i libri per la cultura tutto tondo ed è bellissima questa cosa anche perché in un paese tutto sommato piccolo come quello nel quale viviamo noi trovare una libreria con tanti titoli che sono sì in parte adatti a soddisfare il gusto commerciale però anche un po' di chicche, un po' di particolarità di caseguitrici indipendenti ecco di gusto per il bello della lettura fa bene al cuore, ci fa benissimo sì assolutamente mi trovi d'accordo, ci fa benissimo e quella è la parte non commerciale mia, è proprio la passione da lettore, libraio che serve perché sennò diventa un'altra cosa, facciamo un'altra cosa tu sai che il mio alter ego è il libraio matto eh sì ti ho presentato proprio così come fa ah perfetto esatto il libraio matto è una manifestazione reale proprio della mia passione, del mio amore per questo mondo di inchiostro e carta benissimo allora sei proprio nel posto giusto perché noi qui sul mio canale abbiamo creato un po' un mondo condiviso di appassionati, di lettura di lettori, di letteratura, quindi ci piace tanto questa cosa e allora vi spiego che cosa faremo oggi insieme a Giovanni in realtà io sono un po' una cavia in questo momento perché stavolta non sarò io a suggerire dei libri agli altri ma sarà il libraio matto Giovanni a suggerire tre libri a me tre libri che magari io non avrei notato in libreria che lui ha selezionato e di cui mi presenterà brevemente un po' un'introduzione ma a quel punto non sarò io a scegliere quale dei tre libri sarà la mia prossima lettura ma sarete voi perché alla fine di questo video sarete proprio voi a votare fra questi tre libri e quello più votato diventerà la mia prossima lettura quindi mi raccomando state belli concentrati e non mi fate fare cose che io non vorrei fare che ormai mi conoscete un po' e allora lascio a te la parola speriamo che anche la scelta dei tre titoli guarda sono terrorizzata te lo dico subito fai bene sai faccio bene sì fai bene perché dopo la nostra checcherata di qualche giorno fa mi sono chiesto io non conosco Martina come lettrice così bene è vero quindi cerchiamo di spiazzarla va bene sono pronta allo spiazzamento spiazzami e allora iniziamo col primo vai ok giudo gli o no dai tengo gli occhi aperti tieni gli occhi aperti eccolo qui oh mamma allora già ho capito proprio lo spiazzamento totale totale che figata sì perché vedo del giallo e quindi immagino che non sia ciclista è già misteriosa scomparsa misteriosa scomparsa di Don Vito Travia Travia sì esattamente è un nuovissimo romanzo uscito poche settimane fa dalla Newton e Compton che come ben sai la Newton fa un romanzistica ma tutto tondo e io l'ho sempre considerata una case editrice che intanto mi piace l'idea che i libri costino poco sì sia nella prima pubblicazione sono abbordabili per tutte le tasche e poi mi piace la selezione dei loro autori perché non sono quelle quei romanzi che hanno pretese ok sì sono un po' diciamo da sì per tutti diciamo così perché sappiamo bene che esistono romanzi strutturati impegnativi che anche chi è abituato alla lettura gli viene corposo invece qui con la Newton andiamo belli scorriamo diciamo che è giusto che ci siano proposte varie un po' per tutti i gusti e per tutte le esigenze non c'è soltanto Kafka ovviamente no esattamente ecco e allora questo giallo tu sai che io proprio con i gialli sono gli ami eh con le me li divoro proprio guarda me li mangio a quintali quindi ho condominato davvero hai azzeccato alla grande allora mi è piaciuto tra l'altro questo prendere questo questo libro perché Sebastiano Ambra è catanese quindi voglio partire da noi è un giornalista si occupa appunto di gialli i suoi romanzi in questo caso il romanzo è ambientato a Palermo ah quindi non siamo a Catania non siamo a Catania lui è catanese però siamo lo ambienta a Palermo e questo mistero questo in questa scomparsa si svolge come una caccia al tesoro lungo la Palermo segreta oserei dire una Palermo esoterica e niente a me è piaciuto si presenta bene e come dicevo poc'anzi è scorrevole sicuramente perché la romanzistica di Nudo non è proprio fatta per questo ok beh diciamo che il giallo non è proprio voi lo sapete che il giallo non è proprio il mio ecco la mia cup of tea come dicono gli inglesi però magari abbatto tutti i pregiudizi sui mille mila cliché che riguardano la Sicilia il poliziesco il morto ammazzato e tutto il resto ma chissà magari la volta buona se lo votate votate ok ok e quindi vai col secondo non so cosa aspettarmi a questo punto no infatti credimi perché ora al secondo cambiamo completamente cambiamo cambiamo tanto dopo il giallo a questo punto cosa può succedere può succedere che abbiamo preso un dark fantasy per adulti ah un dark fantasy per adulti sì esattamente no però qua va meglio allora va meglio del giallo nel senso che a me i fantasy non dispiacciono nel tutto ho un po' dei periodi dell'anno in cui sono più portata verso il fantasy di solito luglio-agosto non lo so perché associo l'estate la magia le bacchette o i portali non lo so che succede quindi ci sta in questo caso parliamo della prigioniera d'oro l'autrice non ha fatto null'altro che rivisitare un mito che conosciamo tutti che è quello di Remmita questo è interessante sì 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 mi è piaciuto proprio questo particolare perché credo sempre che i corsi ricorsi storici hanno una loro utilità e nella letteratura più che mai perché è difficile oggi far passare dei messaggi archetipali oserei dire perché tutti non lo sappiamo bene le fiabe le favole classiche hanno insite dei messaggi ben precisi è noto con piacere che negli ultimi anni molti autori stanno rivisitando i miti greci stanno rivisitando come in questo caso un mito famosissimo sì sì meno battuto rispetto ad altri però è molto importante anche con le fiabe così del resto appunto parlano di archetipi di concetti che sono molto profondi e che al di là del passare del tempo riguardano veramente tutti noi e questioni umane profonde che ci appartengono e quindi qua c'è anche un po' di psicologia tra le righe però devo dire che questo un po' questo un po' un po' mi incuriosisce un po' per il fatto del retelling del mito del mito classico e un po' perché comunque è da un po' che non leggo fantasy quindi forse avrei bisogno anche di svecchiare spolverare spolverare qualcosa e allora siamo passati da uno giallo sì lo shock iniziale a qualcosa di più appetibile sì continuiamo certo a questo punto sono curiosissima del terzo il terzo vediamo che cosa vediamo che cosa abbiamo tirato fuori dagli scaffali della libreria in questo caso ho preso un romanzo per ragazzi che io li adoro anche io i romanzi per ragazzi sono meravigliosi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta che cos'è è in assoluto questo si intitola la libreria magica di pop che bello ma anche una bellissima copertina mi ricorda sai cosa è presente la scena della bella e la bestia quella ecco come no quella biblioteca è meravigliosa tu hai conosciuto la nostra libreria ha una sua superficie dignitosa assolutamente per me è piccolissimo io vorrei questi scaffali a tre piani poterci salire a rampicare perché a noi lettori non bastano mai i libri mai c'è un insaziabile desiderio quindi gli spazi sono sempre troppo costipati troppo pochi e quindi dicevo per quanto riguarda Poppi ho scelto questo tra i tanti romanzi per ragazzi anche questo nuovissimo come tutti come gli altri perché mi ha colpito me lo sono sentito mio in che senso la sede del Libraio Matto il nostro altro punto vendita è un po' una libreria magica perché voi fate anche i laboratori con i bambini perché lì facciamo attività con i bimbi e quant'altro e quindi l'idea che qualcuno raccontasse di una libreria magica me la sento un po' mia in questo caso sono andati anche oltre alla mia mattità come la chiamo io perché non solo esiste questa libreria magica esiste anche il gran consiglio dei librai che decide le regole certo quindi è il tuo luogo ideale assolutamente quali sono queste regole te ne leggo ci sono proprio io ho fatto una domanda regole del sommo consiglio dei librai vai sentiamo la prima le librerie esistono per diffondere luce amore e speranza nel mondo attraverso le storie ma che meraviglia ma che meraviglia ci troviamo d'accordo? assolutamente la seconda i librai non devono mai usare la magia delle librerie a proprio vantaggio c'è una sua etica sì sì assolutamente libreria e libraio lavorano fianco a fianco per il bene comune e anche qui perché devi sapere su nella libreria del libraio matto io dico ai bimbi che la libreria vive è vivente è una creatura vivente e quando ho letto libreria e libraio lavorano a fianco a fianco ho detto ci sono è bello la quarta dice che clienti e librai non possono divulgare il segreto delle librerie quindi c'è pure un segreto naturalmente vabbè sì e poi chiude semplicemente con la gentilezza è d'obbligo ebbè quella direi che è d'obbligo nella vita in generale nella vita in generale se ci scortassimo di essere tutti un pilino non tanto ma un pilino più gentili che non significa essere falsi assolutamente cioè proprio disponibili verso gli altri forse viveremmo in un mondo un pochino più adatto e sai te ne parlavo l'altra sera il libraio che sì è una professione ma io ho sempre sostenuto che è una condizione perché in libreria a differenza dei negozi di qualunque altro settore merceologico tu puoi entrare anche per non comprare solo perché ne hai voglia perché ne hai piacere perché ne hai bisogno è scusa stavo dicendo proprio perché ne hai bisogno e il libraio si trova in una condizione favorete favorita favorevole perché cosa fa accoglie tutte queste navi uno immagino come un porto tutti questi viandanti che arrivano ognuno con il proprio background con la propria storia che si possono incantare o disincantare davanti a un libro o semplicemente in un momento di confronto anche perché hai capito mi piace proprio interagire con i miei fruitori non li chiamano anche i clienti anzi i miei amici lettori e quindi in questo caso poppy per tornare al libro ha delle disavventure perché lei come me è erede di questa situazione di famiglia di questa libreria di famiglia e trova delle difficoltà di non poco conto che la porteranno a rivoluzionare questo mondo e che deve insomma un po' affrontare perché comunque nei romanzi per ragazzi c'è sempre un po' la componente della formazione insomma mi hai già sedotta completamente con questo con questo qui un po' il fantasy mi incuriosiva però diciamo che io amo particolarmente i romanzi per ragazzi poi lavorando alle scuole medie lavorando con gli adolescenti io ho sempre ritenuto molto importante poi ne abbiamo parlato anche insieme tante volte di quanto sia bello scoprire romanzi per ragazzi non soltanto quando si è ragazzi ma anche quando si è grandi perché si riesce a vedere delle cose che magari un lettore di 11 12 13 anni non coglie quindi io sarei tentata per quello ma non vi voglio condizionare quindi se volete farmi leggere il giallo io leggerò il giallo farò i compitini perciò li rivediamo rapidamente sì assolutamente con lo stesso ordine di prima allora li rivediamo rapidamente così ritorniamo loro possono vedere bene e votare esatto la misteriosa scomparsa di Don Vito Trebia poi abbiamo preso la prigioniera d'oro il sottotitolo infatti è Remida e la gabbia dorata probabilmente l'autrice ha intenzione di fare un seguito e per finire la libreria magica di Poppi benissimo adesso tocca a voi noi qui dalla libreria ci salutiamo e fatemi sapere se vi è piaciuta questa nuova rubrica se avete delle curiosità da chiedere a Giovanni Libraio Matto magari la prossima volta faremo un altro appuntamento e potremmo pensare ad un'altra modalità ad un'altra idea però questa rubrica si ripeterà quindi aspettiamo anche le vostre proposte le vostre reazioni i vostri feedback perché sono molto importanti per me lo sapete sempre voglio sempre proporre delle cose che vi siano gradite e che possano essere piacevoli anche per la crescita del canale quindi fatemi sapere la vostra opinione e votate il libro che leggerò io vi ringrazio per essere stati qua ringrazio tantissimo Giovanni per avermi ospitata in questo posto speciale è stato bellissimo sono io nuovamente a ringraziare te e come ti dissi qualche giorno fa considerati a casa tua lo farò guarda è quella volta in cui sai quando gli amici ti dicono considerati fai come se fossi a casa tua e poi tu talvolta non lo fai ecco io questa volta mi sa che la coglierò questa proposta e io voglio che tu lo faccia ma insomma ma chi non vorrebbe poter avere questa opportunità nella vita poter avere una libreria dove sentirsi a casa è una cosa stupenda quindi grazie grazie ancora grazie mille a te Martina e grazie a voi per essere stati con noi anche in questa nuova rubrica noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un altro appuntamento ciao 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 Grazie a tutti.